Ciao ragazzi, bentornati e gattini misti. Abbiamo simboli del miliardario, due, numeri fortunati, un sette e mezzo e un tutto e per tutto. Allora ragazzi, iniziamo subito con il miliardario, i simboli del miliardario. Allora, un attimo che zoom, ok. Allora, iniziamo subito, il numero è il 5. Allora, vediamo, iniziamo subito, dobbiamo fare il tris, stella, stella, poi abbiamo un lingotto, il bonus, abbiamo la moneta, l'ingotto, la moneta e qui abbiamo solo, possiamo fare solo il tris con la stella. E' mai la stella già uscita, quindi non possiamo fare più niente. Ferro e ferro. Quindi ragazzi, questo biglietto è perdente. Allora, proseguiamo con il numero 6 e vediamo qui, stella, di nuovo, ferro e moneta. Ringotto e stella, moneta, ferro. Qui non possiamo fare niente, al massimo possiamo fare così, lo possiamo fare da qua, ma, infatti, mi sembrava strano. E la moneta è il lingotto, quindi anche questo biglietto, ragazzi, è perdente. Allora, andiamo con il 7 e mezzo e vediamo subito, allora, carte sul banco, 4, 2, 6, 6 e mezzo. Dobbiamo abbattere il 6 e mezzo, allora, vediamo sulle nostre carte, 1, 1 e 3, quindi 5, non abbiamo superato il banco. Seconda giocata, mezzo, 4 e 1, 5, 5 e mezzo, niente. Vediamo qui, sulle super carte, se riusciamo a fare 7 e mezzo. Allora, mezzo, mezzo, niente ragazzi, niente. Abbiamo fatto 7, quindi niente, anche questo biglietto, ragazzi, è perdente. Allora, vediamo con i numeri fortunati. E iniziamo subito con il 55, 55, non c'è, non lo vedo. 48, 48, non c'è, non vedo nemmeno il 48. 61, eccolo qua, ultimo numero, non ha già segretato il premio, quindi non credo che... Allora, 38, 46, non c'è, 74, non c'è, 23, eccolo qua. Poi abbiamo il 64, 64, non lo vedo, ragazzi. 28, eccolo qua. 62, 62, non c'è, perché c'è il 63, non lo vedo. 11, eccolo qui. 63 sta qua. Poi il 69, 69, non c'è nemmeno il 69. 52, questo cos'è? Vabbè, mo lo gratto poi, 35 perché non si vedeva. Allora, 52, non c'è. 35, l'ho grattato prima. E ultimo numero, 75. Eccolo qua. Ma niente di fatto, ragazzi, non c'è il 73. Va bene, ragazzi, anche questo biglietto è perdente. Allora, adesso vediamo con, tutto e per tutto, è il numero 17. E i numeri fortunati era numero 20. Allora, questo è il numero 17. E vediamo cosa succede. 42, 23, 25, 37 e 34. Allora, vediamo. Prima colonna. 19, non c'è. 34. Eccolo qui, ora l'abbiamo preso il loro numero. Almeno un numerino l'abbiamo preso. 26, non c'è. 28. 35. 43, 42. Non so se si può, se c'è una doppia vincita qui, non lo so. 46. 27. 31. 12. 44. Ultimo numero. 15. Allora, abbiamo preso il 34. Almeno abbiamo recuperato il costo del biglietto. Vediamo un attimino, però. Infatti. Tanto, voglio dire, adesso vediamo il moltiplicatore. E vediamo. Per uno. Va bene, ragazzi. Abbiamo recuperato il costo del biglietto. Allora, abbiamo grattato tutti questi qua. Ma abbiamo recuperato 5 euro almeno. Almeno il video non è proprio vuoto. Meglio questo che niente proprio. Perché c'è stata una spesa di... Allora. 5, 10, 15. E noi abbiamo recuperato i 5, vabbè. Sempre meglio di niente, eh. Va bene, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Chi guarda i miei video e ancora non è iscritto, iscrivetevi al canale. E attivate la campanellina per le notifiche. Un abbraccio e un bacio da Maritena. Ciao, ciao.